Chiara Sugamosto Ciao Chiara e benvenuta Buonasera Allora Chiara forse dovrei dire dottoressa Chiara perché tu sei anche psicologa Esatto, esatto, ho laureata in psicologia clinica di comunità alla Sapienza Ho attraversato anche un periodo di studi che riguardava proprio l'infanzia Studiando proprio per diventare dirigente di comunità e operatore assistenziale per l'infanzia Quindi la tua carriera anche professionale si è sempre focalizzata, specificata nel settore infantile Esatto, esatto Bene, quindi adesso andiamo a parlare del girasilo Perché noi discutevamo anche un po' fuori onda Io vi racconto ogni tanto amici della notte anche di che cosa parlo con i nostri ospiti fuori onda E tu giustamente Chiara mi hai fatto presente un problema Comunque una questione molto sentita soprattutto per chi chiaramente è artefice O comunque partecipa o compartecipa al fantastico mondo degli asiliniti Che effettivamente l'asilonito del genitore lo vede anche un posto dove il bambino gioca semplicemente Non dico proprio lo getta lì e lo lascia ai mani competenti e lo lascia giocare Però ci siamo un po' vicino E invece non è così perché l'asilonito ha tanti di quei pro che sono importantissimi Al di là del fatto che il bambino sta in un ambiente un po' diverso da casa Al di là della socializzazione ci sono anche corsi e tanti altri servizi che l'asilonito offre E qui lascio la parola a te, servizi del girasilo Hai assolutamente ragione, la stessa parola asilo e non scuola Diciamo tende un po' a forviare le persone perché pensano di essere Di portare i bambini diciamo così in una situazione totalmente da parco giochi Quando in effetti non è così L'asilonito è il primo imprinting che il bambino ha con l'istituzione scolastica E quindi ovviamente a noi spetta diciamo così il lavoro per così dire sporco Di scolarizzare i bambini cioè abituarli a quello che sarà un domani L'essere parte integrante di una struttura come la scuola Assolutamente e non è mai banale dirlo essendo i bambini Anzi il cervello dei bambini come spugne Effettivamente hanno questo imprinting, tu hai usato la parola giusta Già ai 2-3 anni ed effettivamente poi questo ritorna E non dico solo secondo me nella vita scolastica ma in generale nella vita Considera che parliamo di bambini, noi accogliamo bambini dai 3 mesi ai 3 anni Quindi cominciamo fin da subito a farli entrare in questa piccola comunità Che è fatta non soltanto di bambini ma anche di adulti Di questa figura che è la maestra che praticamente è una figura sempre positiva Che è sempre lì pronta a propormi qualcosa di molto positivo Ovvio che io dico sempre ai genitori se saranno avvocati e medici Non lo devono certo l'asilo nido ma se ameranno andare a scuola Sicuramente in questa fase è importantissimo il tipo di imprinting che hanno Credo anche io, sono d'accordo con te Parliamo un po' di quei corsi che fanno l'asilo nido So che la lingua inglese ormai è un must e deve essere Si dice che la lingua inglese, l'utilizzo della lingua inglese Aiuti molto a sviluppare alcune aree del cervello Almeno quello che sapevo io ma c'è anche molto altro ancora Assolutamente sì, noi all'inizio dell'anno con tutto lo staff al completo Compresa anche la pediatra e la psicomotricista Ideamo quello che è il progetto educativo dell'anno Significa che il progetto educativo è sempre personalizzato Non è mai sempre lo stesso ma ovvio tiene conto sempre del tipo di bambini Che abbiamo di anno in anno Il metodo che utilizziamo è un metodo sistemico relazionale Che significa che non tende a ghettizzare i bambini in base all'età Ma cerchiamo di farli socializzare molto tra di loro Anche di età diverse E infatti perché di solito io mi ricordo elementari ma anche alle medie Quelli della prima stavano con quelli della prima Forse di diverse sezioni ma comunque stavano con la prima Quelli della seconda con la seconda E invece non si dialogava mai tra classi diverse È limitante È limitante E invece con l'asilo nido per fortuna queste barriere non ci sono E si spera che comunque non ci siano anche poi nel futuro Anche se poi chiaramente la scuola è formata in maniera tale da creare queste barriere Però se l'indole della persona, del bambino Anzi che deve diventare poi un giovane adulto Viene già un poco modellata in questo senso Forse si possono ottenere dei risultati positivi o propositivi Sì assolutamente sì anche perché noi pensiamo sempre che è il bambino grande Che stimola il piccolo a velocizzarsi in tutte le sue attività Nel suo sviluppo Ma in realtà anche il piccolo ha tanto da dare al grande In termini spesso anche di empatia Cioè il bambino grande vivendo il piccolo riesce a mettersi nei suoi panni E questo creerà sicuramente degli adulti adattati un domani Assolutamente Più sei a metterti nei panni degli altri più sei adattato domani Io sono d'accordo con te Anzi penso che pochi adulti abbiano fatto l'asilo nei dodi Sì esatto Guardandomi attorno Effettivamente perché quello che manca nel mondo è l'empatia E non solo questo Siamo un po' troppo individualisti Invece bisognerebbe anche mettersi nei panni altrui Per capire un po' meglio come funziona Non dico la persona che ci abbiamo accanto Ma la realtà stessa Questo però è una mia digressione Altrimenti apriremo una parentesi sociologica Un po' troppo ampia Infatti non indifferente Oggi parliamo però anche della nostra Chiara Sugamosto Che ci è venuta a trovare Perché Chiara devi parlarci di te Abbiamo detto che tu sei una psicologa Che ti sei specializzata Soprattutto nel settore infantile E hai voluto chiaramente creare questa realtà Ma parlaci un po' di te Come mai? Dove è nato questo desiderio? Questa passione? Perché si sa dove c'è la passione Cioè forse la fatica Ma non si lavora Si esce sempre soddisfatti Beh certo Evidentemente Già scegliendo un tipo di studi Che riguardava la psicologia Chi meglio di un bambino Riesce a insegnarci Certo Quello che in realtà poi La mente umana E chi meglio di uno psicologo Specializzato nell'ambito infantile Riesce magari Un po' nell'utopia Di creare degli adulti Diciamo prima Il più possibile Tendenti alla normalità Il più possibile Perché chi è che è normale a questo mondo? Esatto Nessuno Ma ci mancherebbe altro Non ci chiamiamo certo La normalità assoluta La perfezione assoluta Però sicuramente Quello che cerchiamo È di dare tutto il meglio al bambino In modo tale Che il suo sviluppo evolutivo E cognitivo Sia tendenzialmente al top Certo O che almeno Si sfrutti tutto il potenziale possibile Esatto E quindi più che lavorare Oltre che sugli adulti Cerchiamo Almeno il mio intento È sempre stato quello Di lavorare molto sui bambini Chiaro Benissimo E sui genitori Certo Assolutamente Perché il lavoro si fa anche sui genitori Assolutamente sì In questo periodo Settembre-ottobre Stiamo affrontando gli inserimenti E ti assicuro che sono inserimenti Sia per i bambini Che per i genitori È vero Perché alle volte Anche il bambino che va all'asilo nido È meno sconvolto del genitore Il genitore alle volte Le mamme sono sconvolte Il mio figlio doveva finire Lo so Succede così Però bisogna anche Anche il genitore deve imparare il distacco Certo Questo è importante Diamo dei suggerimenti E delle informazioni in più Ai nostri amici radioascoltatori Per quanto riguarda il girasilo Il girasilo è una bellissima realtà Di velletri Che si trova via Maglio Quarantelli 6 Il contatto Facebook è Asilo nido Il girasilo Mettete un like alla pagina Seguite la Mi raccomando E per tutti i genitori Interessati a questa bellissima realtà Possono andare sul sito internet www.ilgirasilo.com Dove troverete Chiaramente Chiaramente tutte le informazioni relative Tra cui l'indirizzo email Il calimero bianco Chiacciola gmail.com Il nome tra l'altro Il calimero bianco E il numero fisso 06-60-67-1726 Ripeto 06-60-67-1726 Oppure anche un numero di cellulare 331-3242-662 Ripeto ancora 331-3242-662 E detto questo Cara Chiara Vuoi aggiungere qualcosa? Un messaggio finale Ai nostri amici radioascoltatori Prima di concludere? Mandate i vostri bimbi al nido Perché assolutamente è una situazione Ovviamente nuova per ciascuno di voi Anche per i genitori Non è assolutamente una realtà Che si sostituisce a casa Alla famiglia Ma è un'istituzione in più Che prepara i bimbi alla materna Per prepararli proprio a questo All'avvento nella vera scuola Dove non ci sono i tempi più morbidi del nido Ma dove purtroppo Ci sono delle richieste Un po' più Diciamo così Un po' più pesanti Si corre un po' di più Per un bimbo che non ha mai avuto nessun approccio alla scuola Alla figura della maestra Potrebbe essere un po' più delicato insomma Assolutamente Si corre un po' di più Potremmo aprire anche una parentesi Tutte le piste della scuola Perché ce ne sarebbe anche lì da dire Ma la chiuderemo qui Ma intanto Chiara Io ti ringrazio per essere stata ospite qui da noi Grazie a voi Ciao